Passiamo alla classificata delle società pugliesi, quinta società classificata Atleti Valle dell'Ofanto, quarta società classificata Atletica Stracaniano, terza società classificata Atletica Stracaniano, terza società classifica Atletica Stracaniano, terza società classificata Quinta rassificata, atletica dell'Opanto, Barletta. Quanti rassificati, atletica Stracagnano. Terza rassificata, politica San Nicandro. Seconda rassificata, Gergardo 2011 su Nottesonia. E prima rassificata, atletica di sfida di Barletta. E con tutti i ragazzi azzone. E' una foto con il sindaco, con tutti gli atleti. E' una foto con tutti gli atleti. Tutti gli atleti? Premio all'atletica di sfida di Barletta. Il primo premio. Non vogliono tutti i ragazzi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.